1.400 abitanti e 1.400 capi di bestiame, forse anche qualcuno di più. Parola di Doriano Codega, primo cittadino di Colorina, realtà agricola per Antonomasia della provincia di Sondrio, con 11 aziende del settore di medie e grandi dimensioni, che perpetuano una tradizione ancestrale che producono il formaggio locale. Per questo il paese orobico è stato scelto per ospitare la quinta mostra zootecnica dei comuni delle Alpi Eorobie, in programma domenica prossima nella struttura polivalente di Via Aldomoro, con al mattino la sfilata delle 52 giovani manze e mazzette di razza bruna e delle 60 pezzate rosse provenienti da tutta la provincia, e al pomeriggio la mostra provinciale delle 65 bruno alpine in lattazione. Una delle caratteristiche della mostra di Colorina è che è fatta dai giovani per i giovani, c'è molto entusiasmo, partecipa all'istituto agrario di Sondrio con i loro alunni, e soprattutto ci sono anche i figli di agricoltori che loro stessi conducono i capi di bestiami durante la mostra. Concetto ripreso questa mattina in conferenza stampa in comunità montana a Sondrio da Silvia Marchesini, presidente provinciale col diretti allevatrice di Colorina. Il settore dell'agricoltura è un settore che dà spazio alle nuove generazioni, abbiamo un forte ricambio generazionale e sono numerosi gli imprenditori agricoli giovani che intraprendono l'attività dei loro padri. Il futuro in sala assemblee dell'ente montano stamane era rappresentato da due studenti dell'istituto agrario di Sondrio che attivamente partecipano all'allestimento della mostra e che erano accompagnati dal loro insegnante di laboratorio, Mario Rumo. Abbiamo tosato, lavato gli animali e ci siamo impegnati appunto a fare questo lavoro. Siamo andati in queste stalle dove ci hanno segnato e abbiamo fatto camminare gli animali, le abbiamo tosate per rendere più belle e fare più bella scena. Quella di Colorina del resto al pari delle altre mostre che seguiranno, a Sondolo il 14 aprile, a Lanzada il 20, a Talamona il 25, a Bormio il primo maggio, vogliono celebrare un settore, quello zootecnico, che sta particolarmente a cuore a tanti valtelinesi e valchiavennaschi e trova nelle istituzioni un convinto supporto con l'obiettivo, spiega Tiziano Mafezzini, presidente dell'ente montano di Sondrio, di dare visibilità e valore al lavoro di quanti si occupano di agricoltura in montagna e anche di avvicinare al settore non solo gli addetti ma residenti e turisti interessati a trascorrere una domenica alternativa a stretto contatto con la natura, con gli animali e i loro prodotti. Non solo sfilate infatti ma anche giochi gonfiabili, esposizioni di prodotti e vendita, dimostrazioni di lavorazione del latte, degustazione di yogurt locali e il pranzo a base di prodotti offerti dalle aziende agricole del posto, aziende che possono contare, quanto meno, su un prezzo congruo del latte conferito. Abbiamo sì un prezzo migliore, riconosciuto dalle nostre cooperative, però abbiamo sempre bisogno di creare un valore aggiunto alla produzione del latte, quindi una certificazione che possa permettere di avere come riconoscimento di alta qualità del latte di montagna.